Cavalieri ed Ame, bentornati nel nostro podcast Medioevo Pastoria. Prima di iniziare, volevo invitarvi ad ascoltare il podcast fino alla fine, poiché abbiamo qualche annuncio da fare. Io sono Giovanni Pietrobelli e questo è l'episodio 2. Vichinghi, storia, mitologia, razzie e molto altro. I vichinghi sono riconosciuti tra i popoli più miticizzati che siano mai esistiti. Vi spiego meglio. Penso che la maggior parte di voi abbia visto la serie TV Vikings, no? Bene, il perfetto esempio di come noi vogliamo vedere il mondo nordico. Innanzitutto, un chiarimento sul loro nome. I vichinghi erano coloro che, avventurandosi per mare, acquisivano ricchezze razziando e depredando dei territori stranieri, ben inteso all'inizio a loro sconosciuti. Diversamente da quello che si potrebbe pensare, la maggior parte della popolazione scandinava non era composta dai vichinghi, ma bensì dai cosiddetti uomini del nord, che svolgevano le attività di una qualunque popolazione che noi consideriamo civilizzata, come ad esempio l'agricoltura, l'allevamento e ovviamente il commercio. Dunque, ora sappiamo distinguere un vichingo da un allevatore di polli, ma fidatevi che questo popolo ha ben altro da far riscoprire. Sappiamo infatti che i vichinghi erano un popolo dalle mille risorse e conoscenze, ma di questo vi parlerà Antonio. Noi immaginiamo che i vichinghi fossero dei fieri norvegesi, dalle lunghe barbe bionde e i capelli intrecciati, quando i vichinghi provenivano anche dalla Svezia, la Danimarca e la Germania settentrionale, praticamente le zone sotto l'attuale penisola danese o Jutland. Erano un popolo di navigatori, vogliosi di raggiungere nove mete per saccheggiarle e aprire rotte commerciali. I loro contatti non si limitavano solo al nord Europa, l'Inghilterra, l'Irlanda e la Francia, ma arrivarono addirittura nel Mediterraneo, nella Spagna, Nord Africa o zone come l'attuale Algeria, Italia Meridionale, partendo dalla Sicilia fino ad arrivare al centro Italia e certe zone della Grecia. Non si limitarono solo al sud, navigarono i fiumi dell'entroterra dell'est, giungendo in Russia e Ucraina. Chieve e Novgorod vi dicono nulla? E giunsero addirittura a Bisanzio, o come la chiamavano loro, Miklavgard, la grande città, perché non solo raziavano monasteri, ma fondavano o arricchivano porti. Pensiamo a Dublino, costruita dai norreni e usata come stazione commerciale. Sappiate che, negli anni di dominazione vichinga dell'Irlanda, Dublino era una delle città europee più popolose. Ah, queste barbare e loro villaggi! Altra stazione di scambio fu Novgorod, non troppo distante dall'odierna San Pietroburgo, impregnata di cultura greco-variaga. Sì, variago, ennesimo appellativo per i pagani senza Dio. Ma siamo sicuri che questo popolo di lupi di mare si limitò solo all'Europa, il nord dell'Africa e l'Asia minore? Infatti giunsero in diverse nuove terre a bordo dei loro destrieri di mare, la verde e misteriosa Islanda e l'aspra Groenlandia, spingendosi sempre più a ovest, giungendo in un luogo particolare. Degli alti alberi, una terra chiamata da loro Vinland. Una terra al giorno d'oggi famosa per una fogliolina rossa e un dolce sciroppo. Ma questo lo vedremo quando parleremo delle grandi personalità vichinghe, poiché uno di loro, più di altri, lasciò la sua impronta nelle terre di frontiera. Il contatto con le altre culture fu molto rilevante nello stile di vita vichingo. Basti pensare ai tessuti. Passavano per la via della seta, arrivavano a Bisanzio, per poi essere indossati da uno jarli in Norvegia. O i gioielli vichinghi, che arrivarono addirittura all'odierna Baghdad. Ma ciò che i vichinghi appresero dal mondo non riguarda solo il mondo della gioielleria e quello tessile, ma bensì l'arte della guerra. I vichinghi la sapevano già fare bene. La perfezionarono, confrontandosi con gli altri. Con gli spiedati celti dell'Irlanda, gli indomabili gallesi, che difesero i loro confini dall'invasore normanno, e pure i franchi, dotati di tecnica all'avanguardia. Vi ricordate un certo Carlo Martello? Ma non parliamo solo di ciò che i vichinghi hanno appreso o acquisito dal resto del mondo. Parliamo di ciò che lasciarono, ciò che portarono, ciò che, oltre alle loro efferate conquiste, le incise nella saga della storia. In primis, ciò che concesse la loro fama fu il dracar, o drekhi, la nave lunga, una nave dalla chiglia bassa, un unico albero e lo scafo simmetrico, in modo da non dover ruotare ogni volta la nave in manovre complesse, in pratica non si dovevano mai girare. Queste navi dominavano i mari, e non solo, riuscivano a navigare nei fiumi senza problemi, lungi dalla complessità e la mestosità delle flotte romane, fenice o ateniesi dell'antichità. Ma, nella loro semplicità, i drekhi hanno dominato la scena navale medioevale del nord Europa. La nave lunga, usata per viaggi, commerci, razzie e battaglie, non fu la sola, chiamiamola, invenzione dei normanni. Sotto l'aspetto prettamente bellico, i vichinghi introdussero la sciabarbuta. Già dalle cronache romane e britanne era risaputo che le popolazioni germaniche avessero un particolare amore per le asce. I sassoni che invasero l'Inghilterra, non appena i romani la abbandonarono, spodestarono colpi di asce da guerra i britanni e celti, abituati ormai alle tattiche romane con scudi, lance corte e spade. Anche i longobardi, che dominarono per quasi due secoli la penisola italica, adottavano quest'arma, ideata dai loro antenati scandinavo-finnici. Ma, a differenza degli antenati e dei cugini germanici, i vichinghi, dall'età del ferro in poi, perfezionarono l'ascia, da attrezzo fino ad arma, creando appunto la famigerata ascia barbuta. La testa di quest'arma era formata da un bordo superiore dritto e un bordo inferiore allungato, praticamente formava un uncino parallelo al manico. Era ottima per i colpi di taglio e con la parte interiore si potevano agganciare gli escudi nemici e le armature. Poteva essere di varie misure, dalle piccole, ottime per il lancio, come l'ha già vista Francisca, fino ad arrivare alle bastarde o a due mani. Eh, da non confondere con l'ascia danese, perché la testa d'ascia di quest'ultima spesso e volentieri, invece che essere dritta, terminava verso l'alto con una punta. La sciadanese, assieme alla lancia, furono la base di moltissime armi in estate che dominarono nei campi di battaglia medioevale, come alabarde, azze e berdiche. Sempre parlando di guerra, le tattiche dei vichinghi consistevano soprattutto nelle razzie, attacchi via mare o fiume a bordo dei dracar, o via terra, ma non sempre erano basati solo sulla brutalità, lo sconto frontale e il muro di scudi, bensì vi era come lo chiamavano loro, lo standog. Una rete di spie infiltrata nei centri o città da saccheggiare. Questi uomini delle ombre o uccelletti, come direbbe un maestro di spie del celebre trono di spade, informavano il loro capiguerra delle usanze locali, delle feste e dei punti deboli. Non era insolito che diversi incursori passassero da un tratto di muro poco sorvegliato o dismesso, o che le scorrerie avvenissero nei giorni di festa cristiani all'interno dei centri cattolici. Questa era un'introduzione generale a questo interessante popolo, che, come altri, ha fatto cose sorprendenti e altre terribili. Ma in fondo, così è la storia, no? Così è questo triste, ma interessante, e interessante mondo. E siamo ansiosi di raccontare le gesta non solo di questo popolo, ma degli eroi che vi nacquero. Il grande Harald Bellachioma, lo spavaldo e stoico Guglielmo il Conquistatore, l'esploratore un po' matto Erich il Rosso, e molti altri che, con un po' di fortuna, vedremo assieme. Wow, così tante informazioni per un popolo che, secondo la cultura pop, beve dai teschi dei nemici come noi potremmo sorseggiare una birra in latina. Veniamo ora ad un aspetto molto interessante della cultura vichinga, la religione. Sì, lo so, tutti sappiamo che il big boss degli scandinavi è Odino e suo figlio fa da protagonista in qualche film utilizzando un martello, ma che mi dite degli altri? Bene, via cultura io. Innanzitutto è da notare come i Norreni siano stati il popolo che più di tutti in Europa ha mantenuto il culto politeista, considerando ovviamente l'aspetto pagano. Notate appunto che nel periodo in cui fu effettuata la prima incursione vichinga in Inghilterra, quindi circa alla fine del Settecento, Carlo Magno stava sistemando per bene l'Europa occidentale, ok? Avete capito il periodo storico? Vediamo ora di dei. Odino, il dio cieco da un occhio e spesso raffigurato come zoppicante, è considerato il padre degli dei e di tutti i morti gloriosi. Abbiamo poi il suo figlio, il mitico Thor, che con il suo martello e l'incudine crea tutti i fulmini che sfrecciano nel cielo. Baldur, invece, è il dio della speranza. Vreyr della bellezza e della fecondità. Tyr, molto importante per i norreni, è invece il dio della guerra e della giustizia, mentre Loki è il dio del caos e dell'astuzia. Abbiamo, ovviamente, molte divinità femminili. Le più importanti sono Frey, dea dell'amore, della fertilità e della seduzione. Frigg, signora degli dei e del cielo e infine Eyr, dea della guarigione. Sappiamo che vi era una piramide sociale anche nella cultura norrena. Più precisamente, vi erano tre classi. Gli Jarl, ovvero l'aristocrazia, i Karl, la classe inferiore, la gente comune, e infine i Tral, gli schiavi. Da notare che in futuro vi sarà un re e addirittura un imperatore dei popoli scandinavi che unirà Inghilterra, Normandia e appunto tutte le popolazioni scandinave. Citerei ora a farvi notare una cosa. Tutti sappiamo che nella cultura scandinava esistevano le cosiddette shield maiden, le famose guerriere tenibili tanto quanto la loro controparte maschile. Ebbene, le donne nella cultura norrena erano più considerate che in certi stati ai giorni nostri. Mi spiego meglio. Sappiamo infatti che esse potevano ereditare proprietà, scegliere come e dove vivere se non si erano sposate, potevano rappresentarsi nei casi legali oltre a poter possedere e dirigere delle loro attività commerciali, oltre ad esservi appunto delle vere e proprie guerriere. Vi sono diversi esempi di donne che fecero costruire insediamenti come nell'Islanda ad esempio o nel 1086 nel Doomsday Book edito da Guiliemo il Conquistatore sono citati almeno 21 insediamenti governati da donne norrene. Certo, una donna non poteva scegliere il proprio marito ma neppure gli uomini potevano scegliere il loro consorte. Ma qui siamo peggio del medioevo. non è.